. Uomini e donne, Sabrina Ghiu offesa da Nicolò Ragnolo, la dura replica Uomini e donne Gossip News, la replica di Sabrina Ghiu dopo le offese di Nicolò Ragnolo. Colpo di scena a cancelletto Uomini e donne dove in queste ultime ore si è tornato a parlare di quella che poteva essere la coppia composta da Cancelletto Sabrina Ghiu e Nicolò Ragnoli. Tra i due sembrava esserci un grande feeling, al punto che la tronista romana alla fine del suo percorso in trasmissione da Maria De Filippi, video, decise di coronare il suo sogno damore proprio con il cortaggiatore Nicolò. Peccato, però, che questa favola damore non è mai iniziata visto che Nicolò ha rifiutato clamorosamente la bella Sabrina. Ue di Gossip News, Sabrina Ghiu umiliata da Nicolò. Il tronista poche puntate prima della scelta, quasi come se avesse capito che sarebbe stato lui il corteggiatore ad avere la meglio al duello finale, decise di ritirarsi dal programma ma Sabrina durante la registrazione della scelta lo fece richiamare lo stesso, perché era proprio lui la persona con la quale intendeva costruire un futuro insieme. La posizione di Nicolò Raniolo, però, non cambiò minimamente, il ragazzo, infatti, disse che Mpon riusciva ad immaginare un futuro al fianco di Sabrina, sottolineando che erano molto diversi dal punto di vista caratteriale e quindi di voler proseguire una strada diversa, lasciando senza parole la bella tronista romana che tutta avia fino alla fine scelse di seguire il suo cuore. Dura replica di Sabrina Ghiu dopo le accuse di Nicolò. Ebbene le ultimissime di gossip di oggi su Uomini e Donne rivelano che a distanza di un po' di tempo dal fatidico no in trasmissione, Nicolò Raniolo è tornato a parlare della scelta e lo ha fatto lanciando anche una frecciatina al vetriolo nei confronti di Sabrina Ghiu. Sì, perché nel corso dell'intervista all'ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi, video, che nel frattempo sogna il trono, ha ammesso di non gradire le donne rifatte. Per molti spettatori questa è stata una vera e propria frecciatina al vetriolo nei confronti della Ghiu, la quale non ha mai nascosto di essere ricorsa al bisturi per qualche operazione. La notizia ha fatto subito il giro del web e dei social e ovviamente ha portato alla dura replica da parte di Sabrina Ghiu, la quale non è rimasta in silenzio di fronte all'attacco di Nicolò e ha a sua volta postato una stories su Instagram in cui dice di essere fin troppo educata e si gonora per rispondere a determinate provocazioni e quindi a cadere così in basso. E poi ancora Sabrina prosegue dicendo, alcune volte il silenzio vale più di qualsiasi cosa. Nicolò incasserà il colpo in silenzio oppure replicherà ancora alle parole dell'extronista? Seguite il canale di Uomini e Donne per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La notizia ha fatto subito